Il fallimento del progetto Gipetto, tre esemplari reintrodotti sul Supramonte e tutti morti per bocconi avvelenati, potrebbe mandare in cantina anche quello che punta a riportare sempre sul Supramonte i grifoni. Lo aveva predisposto anni fa l'Enteforeste, sembrava a buon punto trovato il sito, realizzate anche le voliere, ma poi tutto si è arenato, complice probabilmente il naufragio Gipetto che comunque non sarebbe l'unica causa. Ora il Comune di Oliene e la provincia di Nuoro chiedono che si riparta. Riteniamo che questo progetto possa riportare nelle nostre montagne un animale che è fondamentale nel paesaggio e nell'habitat del Supramonte. È importante appunto che tutti gli enti che in qualche modo devono esprimere il proprio parere su questo progetto si rimettano intorno a un tavolo e portino avanti il ripopolamento del grifone nel Supramonte. Domenico Ruglio al grifone ha legato molta della sua attività di fotografo naturalista. Il ritorno del grifone al Supramonte sarebbe un grande ritorno dal punto di vista naturalistico, dal punto di vista storico ma anche dal punto di vista del culturale perché comunque una presenza come quella del grifone fa parte della nostra cultura. Ma c'è il rischio di un insuccesso come accaduto per il Gipetto? I grifoni prima di essere liberati devono rimanere almeno un paio d'anni nella voliera. In questi due anni se ci crediamo e se abbiamo buona volontà possiamo trovare le soluzioni.